Dobbiamo solo sperare che la situazione arrivi alla normalità e arrivano le tanto augurate piogge primaverili. Oggi, giornata mondiale dell'acqua, il pensiero va proprio all'acqua che non c'è. Premessa, la situazione in provincia di Sondrio non è drammatica, anche se certo, a differenza dello scorso inverno ricco di precipitazioni, soprattutto nevose, quest'anno il cielo è stato decisamente più avaro. Confrontando con le altre annate abbiamo circa un terzo delle precipitazioni dell'anno scorso e anche meno si era affrontato comunque sull'andamento storico per la stazione di Sondrio. A preoccupare, più della siccità sono altri due fattori, le temperature registrate finora e il vento. In realtà le medie sono state anche superiori al valore medio tendenzialmente del periodo. Ad essere particolarmente fresco è questo periodo qui di marzo in cui stiamo registrando 7,5 gradi di temperatura media finora su un valore medio del periodo che è attorno ai 9,5 gradi. Quindi è piuttosto fresco e tra l'altro è anche ventoso. Questo tendenzialmente sta determinando anche un po' di ritardo nello sviluppo vegetativo delle colture, cosa che si vede molto bene per esempio sul melo. Fa ancora relativamente freddo, anche se adesso, in questa settimana, danno aumento di temperatura e quindi la vegetazione viaggia abbastanza lentamente. Il vero problema è che il vento sta asciugando molto, soprattutto gli strati superficiali. Questo impedisce quelle normali lavorazioni del vigneto, sia perché il vento è fastidioso e quindi si alza un polverone che poi entra negli occhi e dà fastidio, e sia perché la terra così asciutta è particolarmente compatta e poi è polverosa, quindi anche aprendo delle buche poi si riempiono ancora di quella terra che entra. Al momento la scarsità di precipitazioni nei frutteti ha avuto anche un piccolo risvolto positivo. Il fatto di ridurre ulteriormente gli interventi chimici, infatti non abbiamo infezioni, non ci sono malattie. Bisogna fare un po' attenzione agli pianti nuovi, quelli giovani, quelli che vengono messi a dimora adesso, e casomai attrezzarsi e comunque organizzarsi in modo da dare anche dell'acqua tramite altre vie, con l'atomizzatore o con altre procedure. Questo perché? Perché magari poi gli impianti più giovani che vengono messi a dimora adesso possono avere dei problemi di attecchimento o comunque di crescita della pianta. Sicità e vento stanno creando problemi agli impianti di mirtillo nero gigante poste a nord, nessuna preoccupazione per ora invece per quanto riguarda le viti. In primis la vite è di suo una pianta che resiste al secco, secondariamente la vite ha radici molto profonde e quindi riesce ancora a trovare l'acqua e l'umidità di quest'autunno. E terzo motivo è, essendo appunto una fase vegetativa molto precoce, cioè siamo agli inizi, quindi in questa fase non ha bisogno di grandissime quantità di acqua. Se non invece per le piantine, quelle di due o tre anni, con radici più superficiali o piante particolarmente vecchie con apparato radicale compromesso. E proprio dalla vite, la cosiddetta vite che piange, arriva il chiaro segnale che siamo finalmente in primavera, stagione che tradizionalmente in provincia di piogge non è mai stata avara, anzi. Con l'aumento delle temperature scatta quel meccanismo che fa svegliare la pianta e incomincia a assorbire acqua e questa acqua esce poi dai tagli.